Napoli è sempre stato un laboratorio politico eccellente. Sulle amministrative si conferma terreno di sperimentazione per l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle. Stando al sondaggio commissionato dal sussidiario Aquorum tra i napoletani, il più alto gradimento lo raccoglie la proposta di centrosinistra e in particolare lo scenario in cui il candidato sindaco è il presidente della Camera Roberto Fico, con oltre il 40% che vincerebbe al primo turno senza passare per il ballottaggio. Dietro troviamo Catello Maresca per il centrodestra al 26,7%, seguito da Alessandra Clemente, la candidata di De Magistris, con il 16,8%. In ultimo Antonio Bassolino quotato come indipendente all'8,9%. Lo scenario cambia di poco se il candidato di centrosinistra fosse Gaetano Manfredi al posto di Fico. In questo caso l'ex rettore ed ex ministro sarebbe votato dal 34,1% del campione intervistato, con Catello Maresca che salirebbe di un paio di punti rispetto allo scenario precedente. Anche se va detto che la Lega a Napoli non aveva mai raggiunto il 9%. E, altro dato interessante, riguarda le intenzioni di voto politico. Se si andasse a votare oggi per il Parlamento, il Movimento 5 Stelle sarebbe ancora il primo partito a Napoli, con il 36%, seguito dal PD al 20%. Discorso a parte, merita il giudizio dei napoletani sull'amministrazione edema. Da qui il commento del sindaco uscente che a radio CRC ha azzardato la sua previsione. Alessandra andrà al ballottaggio con il candidato di centrodestra e poi vinceremo, ha detto De Magistris.